Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Materia di TiraVolta e oggi siamo con GhostClan14 Facciamo un duello, va? Non so se si può fare... Ah, no, non si può fare. Allora facciamo un doppio, va? No, no, non si può fare. Trova partita, vai. Allora vai, sta cercando... Doppio, siamo io e te contro altri due giocatori, vai. Ok, vai, 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 vai. Ok, pronti? Io tengo un TurboCon Road Dog. Tra l'altro, raga, si aprono le porticine Vai, mamma mia, il turbo potente BAM, no, oddio Oddio questo segno Boom Mamma mia, la levata Mamma mia, ragazzi, vai, fortissimi Odè Oddio, mi hai spinto Ok, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo No, porca miseria Pam Fanculo, vai, vai, vai Vai Pam No, che cazzo fai Va bene, va bene, va bene Vai Vai, andiamo Pam, no Per quanto volevo fare la cosa che rimbalzava Ok, andiamo Io, io, il turbo Io, ti Vai, andiamo, andiamo Mamma Era buona No Fisciatissima Proprio Proprio fisciata di Oh Ah, ok, eh Pensavo che la metteva dentro dalla gru No No, no, no Qua vabbè, è sempre possibile Oddio, wow Mi hai spinto proprio in America Mamma mia La macchina dei fulmini, ragazzi Fulmini e salette su Blood Dog Andiamo, vai Ecco qui No Bastardo Oddio, si, si No Bastardo Vai No Pam No Qua chi se l'ha buttata proprio In il cielo Dio, vai Pam Ok Sallevata Madonna Ma che cudo Via, via, via Andarci a cosa potete assegnare La lisciata meno male Bravo, bravo Dio, scusa Vai, vai Madonna Ed erete Mamma mia Ragazzi Mamma mia La potenza Pam Pam Odè Pam Oh mamma Siamo scontrati Ok Dobbiamo segnare E tra l'altro La mia macchina Si è buggata Puoi sapere perché Perché In realtà Dovrei essere Arancione E tu La carrozzeria E' Proprio Buggatissimo Annaccio Ok ragazzi La partita La partita più buggata A livello di daltonismo Sapevo che il rocket link Fosse daltonico Mamma mia Che gol Qua Ho fatto l'assist Grandissima rete Grande rete Guarda Ok Ok andiamo Non lo costo Mamma mia No Si ok Va bene Va bene No Buggatissima Ho visto La fanno Gollo No No La levo Mamma mia Era un gol Levato da dentro La porta Boom Mamma mia Mi ha dato Goal Un bel tiro Ma io la dico sempre Wow Quello Ha finito Mamma mia No ma perché mi scrivono come se fossi Un sacco di patate Vai andiamo Mamma mia Che rete Che rete Mamma mia Bam Boom Mamma mia Sincronismo totale Proprio Guarda Mamma mia Allora Vai 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 Ragazzi Pam la leva La leva La leva Adesso Sono arancione Cazzo No perché sta macchina ogni tanto mi fa Ok vai andiamo Allora Cioè vai per chi Chissà Perché tutti i bug Devo stare Adesso E' segna Boom Mamma mia Cinque gol Ecco qua vai Due Uno Via No Ha fatto gol dal centrocampo E' di FK E' di FK Oddio Nice Autogol Via 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 Oddio Vabbè abbiamo vinto Ci ha la zi Dio Stai calmo Oh ho sbloccato la bandiera di black light Ok 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 Però Non ce la facciamo a fare un'altra partita Perché tengo cinque minuti di video No Allora ragazzi Purtroppo Ci dobbiamo lasciare qui Perché se no Sarebbe venuta una cosa Stresa E ci rivediamo In un prossimo episodio Un abbraccio Materini Tiraotto Ciao Ciao ragazzi Lilian Prontai Qua Qua Grazie a tutti.